Io mi sento indignato, arrabbiato, altri aggettivi in modi proprio pessimi, proprio negativi, ma quello che mi è successo oggi veramente voglio che si prenda dei provvedimenti assolutamente. Ovviamente quello che state pensando non è niente di grave, ma non è senso di me, non della mia vita, non del mio lavoro, ma quello che speravo che non accadesse mai è accaduto. Come ben saprete, nella seconda parte del documentario che feci di God of War Ragnarok avevo detto che temevo un possibile spoiler del gioco. Di fatti è così. Oggi, 22 ottobre, sono le 1 e mezza, io l'ho visto questo spoiler alle 10 e mezza barra 11 di stamattina. Mi sento di dirvi che è una vergogna, una vergogna per le persone che hanno dato... Partiamo dall'inizio, ok? Come ben saprete, hanno fatto dare l'anteprima del gioco a molti youtubers, tra quali Mike Shosha, EveryEye.it e loro, come ho già detto nello scorso video, loro fanno il loro lavoro. Mike Shosha perché si porta 2-3 episodi prima e poi a 9 novembre continua a fare gli episodi. È giusto così, per anticipare il lavoro, la tempistica del lavoro. E ci sta, eh? Invece EveryEye.it, Multiplayer.it, Spazio Games, eccetera, GameSpot, per farvi capire, loro devono avere il gioco prima per recensirlo e per dare, ovviamente, una loro opinione. È ok, ci sta, ci sta, perché il loro lavoro, pagati per questo, e quindi, ok. Ma se c'è una cosa che non capisco, ok, è che, oltre a dare l'accesso anticipato al gioco di God of Ragnarok per fare la recensione, alcuni utenti americani hanno spoilerato, per fortuna, io dico, raga, per fortuna, per fortuna, solo la parte iniziale del gioco. Ma per fortuna, perché sennò, raga, era un macello, era un macello. Io voglio fare un appello a quell'ella di Santa Monica e dei Playstation, e di Sony pure. Ora, quanto ancora vi dovete rendere conto che c'è la gente di merda, dei pezzi di merda, che spoilerano apposta per farci godere meno del gioco in God of War Ragnarok? Quanto ancora dovete far sì che scoprire che non dovete mai più prendere un gioco in anteprima e far uscire proprio nella data precisa? Quando dovete, quando vi svegliate? Scusate, sono ancora pieno di nervoso, non riesco a parlare bene. Però, raga, capite che io vado su YouTube tranquillo per cercare una cosa e trovo un leak di God of War Ragnarok. Ora, ditemi voi come posso reagire. Io aspetto questo gioco da quattro anni. E già che mi fai partire una parte di un gioco che io attendevo da tanto tempo, in 47 secondi di filmato, leakato, raga, non va bene sta cosa. Non va bene. Cioè, sto gioco, o state... Non va bene. Non va bene proprio. Quando vi... Cioè, ma vi state rendendo conto che questa gente non gli frega più un cazzo dell'hype, dell'attesa? Perché ormai è diventato tutto uno spoiler? E tu ti devi attappare le orecchie oppure non vedere di essere ciecato, sordo? Quello che è? Cioè, guarda, io sono indignato. Tant'è che ho fatto la storia su Instagram. Ragazzi, dovete fare molta attenzione a quello che vedete su YouTube, perché è una cosa molto seria quello che sto per dirvi. Hanno leakato il combattimento tra Kratos e Thor. Mi raccomando, ragazzi, non aprite YouTube. E se vedete per puro caso quell'immagine, quel video che dura 47 secondi, raga, non lo aprite perché vi rovinate il gioco. Io purtroppo l'ho visto, sono dei figli di puttana, sono dei pezzi di merda, quelli che leakano le cose. Io veramente la loro madre me la scoperei davanti con 30 senegalesi di merda, con il cazzo lungo e così tutto nel corpo di loro madre. Cioè, no, raga, veramente questa cosa deve essere abolita. Io ve l'avevo detto, io ve l'avevo detto, perché mettere le cose in anteprima? Perché? Perché dare i giochi prima a degli stronzi? Perché? Perché sarete dei figli di puttana, tutti quanti. E poi io l'avevo detto, io l'avevo detto, raga, è sbagliato, ok, è il vostro lavoro recensire i videogiochi, però è sbagliato avere in anteprima un gioco che in realtà dovrebbe uscire il 9 novembre, perché la gente può fare spoiler, può leakare cose. Ho caricato pure il video su YouTube. È bello è quello, è bello è quello. La gente purtroppo non se ne frega più un cazzo di queste cose. E questo è il problema, che uno se si vuole godere un gioco in santa pace, in tranquillità, niente, per forza così. Deve andare sempre tutto a puttane. Sempre, sempre, sempre. E tu ora, piccolo stronzetto che hai visto il leak di God of War Ragnarok, compreso me stesso, del combattimento tra Thor e Kratos, ormai siamo fottuti perché già sappiamo come andrà a finire, già sappiamo come saranno le cose. E niente, ci siamo rovinati un gioco così, a cazzo di cane. Che poi, meno male, e dico meno male che sono quella parte lì. Sennò potevano far vedere tutto. Ed erano cazzi amari. Cazzi amari. Io non posto il video, io perché non sono una merda, ok? Io non lo voglio postare il video. Perché sarei uno stronzo galattico. Perché non sono come quei figli di puttana che liccano le cose. Mi dispiace. Però, c'è una cosa da fare, Santa Monica Studio. Volete intervenire su ste cose oppure no? Eh? Lo vogliamo fare un bel intervento di ban galattico? No? Dell'account PlayStation, no? Non lo vogliamo fare? E loro come coglioni! Loro come coglioni che... Madonna santa, regà, io non ci posso credere. Non ci posso credere. È una cosa assurda. È assurda sta cosa, è assurda. Perché non è che sono arrabbiato. Mi indigno. Perché questa gente non riesce a ragionare col cervello dicendo... Eh, forse è probabile che fanno qualche spoiler. Tua madre puttana! Lo sai già! Perché? Perché dare in anteprima un gioco che basta semplicemente aspettare il 9 novembre... E poi dopo fare la recensione del gioco. In teoria non prima. Prima che esce. Dopo si fa la recensione. È come se vai al ristorante per la prima volta e dici... Eh, ma quel piatto di maccheroni fa schifo e piassa di formaggio. Ma fammelo provare! Non sai neanche che cos'è? Sì, vabbè, è per dire. Cioè, sto facendo un paragone a cazzo. Però, raga, capite il senso? Non puoi dare una cosa prima... Giudicare una cosa prima... Eh, recensire una cosa prima... Che l'abbiano provato tutti. Non è giusto questa cosa. Perché con loro c'hanno un sacco di sordi... Eh, possono fare il cazzo che voglio... Non va bene questa cosa. Tutti hanno il diritto di aspettare. Tutti. Nessuno escluso. Poveri, ricchi... Chi ve vale. Ma tutti devono aspettare. Io aspetto con ansia il 9 novembre. Aspetto con ansia. E voi che fate? Mi spoilerate una parte di God of War? Allora ditelo che ce l'avete la mamma puttana. Ditelo. Ditelo che l'ho fatta apposta. Tra l'altro... Quando ho visto questo leak... Questo video... Che non vi voglio dire, ragazzi. Perché veramente... Sarei una persona di merda... A farvelo vedere. Ovviamente... Questa persona... Non ne sbatte un cazzo. Perché... Ormai God of War... Questo God of War Ragnarok... Per lui che ha leakato questa cosa... Per lui è solo un gioco. È un gioco. C'è ben altro... Al videogioco. C'è inoltre... Al divertimento. C'è una cosa seria. C'è la storia. C'è tutto. E tu lo butti via così. Raga... Io non c'ho veramente parole. Io non c'ho veramente... Una parola da dirgli. Ma se lo trovassi davanti a questo leaker... Che è americano... Islandese... Che cazzo ne so... Io... Lo ucciderei. Lo ucciderei. Lo ucciderei. Ma proprio... Andrei in prigione per ucciderlo. Ormai YouTube... Censura... Incitazione all'odio. Ma YouTube metterà sicuramente ragione. Per questa cosa. YouTube mi darà sicuramente ragione per questa cosa. Perché è una cosa di nervosismo. A me mi sta sul cazzo questa cosa. Che spoilerò le robe. Non va bene. Tipo che non so... Stai per strada... Uno ti arriva... Domani muori. Come la prenderesti? Ha! Vabbè domani muoio. Quindi faccio questo... No! No! Non è così che funziona. Non è così che funziona. Lo voglio scoprire da solo. Voglio... Non c'ho parole ragazzi. Non c'ho parole. Non c'ho veramente parole. Ovviamente ragazzi questo è un video sfogo. Quindi... È una roba che... Veramente non riesco a descrivere questo momento. Di... Odio puro e rabbia pura. Io veramente sono indignato. Mi sento uno schifo per vedere queste cose. Mi sento una merda. Perché ho speso una settantina d'euro. O quello che è. Un'ottantina d'euro. Per questa cosa. Dai. Dai. Io non voglio farvi vedere il video ragazzi. Il leak non me lo faccio vedere. Non me lo faccio vedere. Per il bene vostro. Io ormai l'ho visto il leak. L'ho visto tutto. Ma per il bene vostro io non me lo faccio vedere. Se avete il coraggio di andarlo a cercare. A me non mi riferisco un cazzo. Io non me ne prendo la responsabilità. Però è meglio che non lo guardate. Non guardare questo leak ragazzi. Perché gira. Tanto gira. Gira su Twitter. Su Instagram. Ragazzi. Quindi. Alla fine. Se per caso vedete un leak di qualcosa ragazzi. Togliete la pagina o tutto. Gli amici miei di Telegram. Hanno disinstallato YouTube. TikTok. Instagram. E basta. E Twitter. Basta. Cioè che vita è? Pure Twitch hanno disinstallato. Hanno solo Telegram. Il cui comunichiamo io e loro. Io purtroppo ho visto il video. Dura 47 secondi. Non ve lo faccio vedere. Non ve lo faccio vedere proprio. Assolutamente no. Perché io non sono un pezzo di merda. Che spoglia rare cose. Non lo voglio essere. Detto questo signori. Mi raccomando. Faccio un appello a tutti voi. State attenti. A questi leak. State molto attenti. Perché potrebbe rovinarvi un'esistenza. State molto attenti. Ok? E invece un messaggio a voi. Quelli di Santa Monica. Di PlayStation. Di Sony. Sbrigatevi. Sbrigatevi. Datevi una svegliata al cervello. Datevi una svegliata.